Stasera è la notte di Halloween, ecco bambini, mi rivolgo ai bambini Giovanni, stasera è la notte di Halloween, in guardia bambini perché stanotte potrebbero suonare al vostro campanello questi mostri, ve li faccio vedere. Il primo, guardatelo, Salvini Wise potrebbe suonare, vediamo l'altro, Pisapula potrebbe suonare lui e Sallusferatu, state attenti perché questi bambini, bambini sono dei mostri che girano per gli appartamenti, vi suonano e vi chiedono Dolcetto Rosatellum, sono loro, state attenti.